bello a tutti ragazzi ancora ancora come vi ho promesso eccoci per un nuovissimo video ragazzi nuovissimo video ma qui veramente è con grande orgoglio e con un po di commozione che annuncio un altro grande torneo ma questo lo sento davvero non che non senta quello per i 1000 iscritti ma è un progetto è un torneo che si lega a un progetto che coinvolge tutta la sardegna è un progetto però che ha ambito nazionale si chiamerà sardegna esports cup il primo torneo organizzato in sardegna tramite la preziosa collaborazione di nabui società benefit che sostanzialmente si occupa di creare delle iniziative per il paese in via di spopolamento in sardegna e che in questo caso combatte l'isolamento sia demografico sia causato dal covid tramite questo torneo io sarò l'uomo copertina e con enorme veramente orgoglio ripeto che lanciamo questo torneo in che cosa cosisterà questo video semplicemente sarà un tutorial simile al video precedente che è stato pubblicato su come iscrivervi al torneo nei link in descrizione troverete il riferimento social a nabui troverete il canale twitch di nabui dove verranno castate le partite vedrete alcuni degli allenamenti che si hanno preparati in vista di questo torneo che sarà appunto il 19 e il 20 dicembre verrà giocato principalmente di sabato e poi le finali saranno di domenica in modo tale da non andare a contrastarsi con altri tornei che ci potrebbero essere comunque il torneo aperto a tutti ragazzi le regole le trovate sul sul sito di play game match adesso vedete tutto nel video tutorial quindi non aggiungo altro non voglio dilungare ulteriormente perché sarebbe completamente inutile buona visione ragazzi eccoci ragazzi allora questo è il link del torneo come troverete il link del torneo innanzitutto lo troverete in descrizione qua sul video di youtube e poi chiaramente anche su tutti i social instagram facebook twitter ovunque iscriversi è facilissimo nel video precedente abbiamo visto come accedere alla piattaforma ve lo faccio rivedere andate in alto a destra e premete accedi noi ci siamo iscritti con twitch quindi andiamo con twitch ma come vi ho fatto vedere nel video precedente potete iscrivervi con quello che vorrete google facebook steam discord telegram qualsiasi cosa vi basta avere una di queste piattaforme noi andiamo su twitch perché io sono collegato con quello un attimo per caricare ok come vedete già qua in alto a destra c'è il mio logo del mio canale twitch che ormai ben tutti conoscete è facilissimo ragazzi intanto qua potete vedere le regole molto semplici che vi invito a leggere però caldamente poi premete su info e poi su subscribe noi siamo cecchini bail è il mio account io chiaramente non parteciperò a questo torneo perché sarò il caster fate premete sul vostro account poi fate subscribe per verificare l'iscrizione non solo potete guardare qua ma anche vedere qui eccolo qui cecchini bail contando di foto e quant'altro chiaramente io non partecipo quindi rimuovo descrizione ma veramente ragazzi iscriversi è semplicissimo però se avete qualche domanda qualsiasi cosa ragazzi mi raccomando chiedete sotto i commenti ok se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace condividete iscrivetevi al canale attivate la campanella per tutti i video che usciranno perché usciranno veramente tanti riguardanti pes e non solo però principalmente riguardanti pes perché questo è un canale 360 gradi pes bene ragazzi direi che possiamo cambiare grafica e allora via con la nuova grafica eccoci ragazzi allora io non ho nient'altro da dirvi vi chiedo solo di iscrivervi sul canale twitch di nabui di iscrivervi su pregame match chiaramente di iscrivervi sul mio telegram nient'altro trovate tutti i riferimenti telegram twitch tutti i social riscrivetevi su tutto quello che vi lascio in descrizione mi raccomando ci tengo tantissimo a questo progetto che ho avviato con nabui e comple game match e credo che sia una buona opportunità non solo per la sardegna però anche per tutta italia per tutta la community di pes quindi vi aspettiamo numerosi ragazzi grazie mille per l'attenzione io vi mando un grosso bacio un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao